Il problema della mobilità passiva è un problema endemico delle regioni meridionali e, diciamo, in qualche misura da Roma in giù. Eso rappresenta il fatto che i cittadini di quelle regioni non sono soddisfatti dei servizi che vengono erogati dalle regioni stesse e vanno a cercarli dove sono o presumono che siano migliori. Questo è il problema. Quindi o agiamo su questo problema o tutto il resto, se posso dirla francamente, so chiacchiere. Come si fa ad agire su questo problema? Noi in Calabria siamo una regione che ha la più alta mobilità passiva. Quest'anno sfioreremo i 300 milioni di euro l'anno di saldo tra mobilità passiva e mobilità attiva. Tra l'altro una situazione nella quale si inserisce il piano di rientro dal deficit sanitario, quindi siamo veramente in difficoltà gravi. Però se non riusciamo a migliorare i servizi e il miglioramento dei servizi non si fa in due mesi, richiedono anni perché per riconquistare la fiducia persa occorrono anni di lavoro. Questo vale in sanità come vale in qualsiasi altro settore. In sanità, se possiamo dire, ancora di più. Quindi occorre attivare, e ne parleremo anche durante il convegno, ne abbiamo un po' parlato, e ne continueremo a parlare in conferenza Stato-Regioni nelle prossime settimane, dobbiamo attivare delle politiche che stimolino, da un lato, a darsi ancora più da fare nelle regioni che hanno la mobilità passiva maggiore e dall'altro ad attivare delle politiche organizzative e soprattutto finanziarie che non ostacolino. Faccio un esempio. Nella Regione Calabria i soldi che noi daiamo alle altre regioni sono per noi un costo. Se riuscissimo a risparmiarli e potessimo dare un premio alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che migliorano la loro capacità attrattiva, forse nell'arco di un po' di tempo potremmo recuperare gran parte di questa mobilità. Non tutta e dirò poi semmai perché. Il problema è che le norme nazionali non ce lo consentono. Alle regioni sottoposte a piano di rientro la mobilità passiva non viene, diciamo adesso la semplifico un po', non viene premiata nel caso la si recuperasse. Anzi, nelle regioni che sono più virtuose ogni paziente che viene dal fuori regione è extra budget. Nelle nostre regioni meno virtuose ogni paziente che recuperiamo da altre regioni non ci è extra budget, cioè non ci modifica il finanziamento. Quindi non ci sarebbe in teoria motivo per darsi da fare. Questa è una, se volete un po' semplificatamente, la situazione nella quale lavoriamo. E questa situazione richiede un lavoro di sistema perché si superi. Speriamo di riuscirci.